Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Smantellato un sodalizio criminale operante nel settore ittico tarantino, nelle prime ore di questa mattina i carabinieri di Taranto e militari della Guardia Costiera del Capoluogo Ionico hanno arrestato quattro persone per associazione a delinquere finalizzata a estorsione e furto aggravato a danno dei miti ricoltori del Mar Grande e del Mar Piccolo di Taranto, nonché per minacce aggravate nei confronti degli stessi operatori e in missione in commercio da parte di altri soggetti di prodotti ittici privi di documentazione sanitaria e fiscale, pertanto potenzialmente nocivi per la salute. L'associazione costringeva periodicamente gli imprenditori al pagamento di somme di denaro, influenzando in modo determinante un intero settore produttivo-commerciale particolarmente rilevante per l'economia tarantina. Le indagini hanno portato alla luce un sistema strutturato, in cui gli associati, attraverso minacce e furti di pergolati di cozze nere, inducevano le vittime a non denunciare. Un sistema criminale che si protraeva anche nel periodo invernale, quando non vi è produzione di mitili. Le vittime delle estorsioni, che avrebbero dovuto essere protette, venivano comunque derubate, nonostante il pagamento, mentre i mitili sottratti venivano acquistati da commercianti e ristoratori a prezzi stracciati e rivenduti in totale assenza di certificazione e documentazione sanitaria, nonché di qualità e fiscale. La lavorazione delle cozze avveniva in luoghi fatiscenti, spesso container dismessi da parte di persone prive delle necessarie qualifiche. Le indagini condotte da carabinieri e guardia costiera, sotto la direzione della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Taranto, dal maggio del 2014 al febbraio del 2016, si sono concluse in un primo momento con l'operazione denominata Piovra, nell'aprile dello stesso anno. Sono poi continuate fino a febbraio con l'operazione Piovra 2 Respect. Il secondo filone investigativo ha permesso di accertare una sorta di passaggio di testimone tra i primi arrestati e alcuni parenti degli stessi. Nel corso delle indagini sono stati poi sequestrati un quintale di cozze nere, prive di certificazione sanitaria e fiscale, nonché 7 chili di datteri di mare, considerati una specie protetta, in quanto per la loro raccolta è necessario distruggerne l'habitat. Complessivamente sono state inflitte pene per un totale di 40 anni, nonché multe per un importo complessivo superiore ai 40 mila euro. Sarà compito del Tar di Lecce decidere sulla sospensione dell'ordinanza firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci lo scorso 22 maggio, che impone il fermo degli impianti Exilva se non verrà neutralizzato l'aumento costante di benzene. A stabilirlo il Tar Lazio, che ha accolto le tesi degli avvocati, tra cui quello dell'ufficio legale di Arpa Puglia, Laura Chiapperini, il quale ha dichiarato che i provvedimenti impugnati sono destinati a produrre i propri effetti esclusivamente e limitatamente al territorio di Taranto, ricompreso nella circoscrizione della legge del Tar Puglia. Una tesi che ha avuto ragione davanti al Tar Lazio sarà quindi il Tar di Lecce a fissare nei prossimi giorni l'udienza per valutare la sospensiva richiesta dall'azienda in attesa che i giudi decidano sulla legittimità dell'ordinanza. Al Tar del Lazio si era rivolta a Ciaieri d'Italia per impugnare il provvedimento che impone all'azienda e all'Ilva in amministrazione straordinaria di individuare entro 30 giorni le fonti di emissione del benzene e di trovare una soluzione oppure fermare entro 60 giorni alcuni impianti dell'area a caldo. Grande dispiegamento di mezzi e di uomini e donne della Guardia Costiera che fino al 17 settembre presterà servizio lungo la Puglia e la Basilicata Ionica nell'operazione estiva Mare Sicuro, 29 uffici, 26 mezzi navali in mille chilometri di coste, 40 militari impiegati nelle sale operative. Quest'anno si prevede un ritorno alla pienissima normalità ha dichiarato il contrammiraglio Vincenzo Leone durante la conferenza stampa di presentazione dell'operazione. Non siamo preoccupati ma attenti. La scorsa estate, nell'ambito della stessa operazione sono state 251 le persone salvate e 74 le unità soccorse di cui 71 da di porto. Grazie all'attività della Guardia Costiera sono stati inoltre restituiti ai cittadini oltre 11.300 metri quadri di spiagge libere illecitamente occupate. Con le strutture e le spiagge sold out l'impegno diventa ancora più gravoso ha continuato il contrammiraglio Leone l'importante è che la gente capisca che la sicurezza dipende anche da loro stessi. Durante il corso dell'estate proprio per questo motivo saranno promosse campagne di informazione ed esercitazioni volte a sensibilizzare bagnanti e diportisti ad un approccio consapevole con il mare. Il maltempo che ha caratterizzato il mese di maggio e l'inizio di questo giugno sembra ormai essere un lontano ricordo. L'estate 2023 è finalmente cominciata anche dal punto di vista meteorologico e l'Italia è al momento colpita da una severa ondata di caldo africano che raggiungerà l'apice tra oggi 21 giugno e domani portando le temperature massime anche sopra i 40 gradi. In Puglia previsti sole e gran caldo per i prossimi giorni. Nel fine settimana tuttavia venti freschi provenienti dal nord Europa potranno portare un po' di sollievo prima al nord e poi anche sulle zone centro-meridionali del paese abbassando leggermente le temperature. Per il secondo anno consecutivo torna a Taranto il campionato italiano di Aquatron Classico una specialità del triathlon articolata su due frazioni di corsa da due chilometri e mezzo e una di nuoto da un chilometro. Un importante appuntamento sportivo che si svolgerà il prossimo 2 luglio e richiamerà a Taranto centinaia di atleti, accompagnatori e staff tecnici provenienti da tutta Italia. Una gara appassionante dall'elevato contenuto agonistico che si svolgerà nei luoghi più suggestivi della città dal Castello Aragonese al canale navigabile fino al lungomare. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori e il presidente Giubilei che ha permesso per il secondo anno consecutivo questo campionato italiano di Aquatron. Chiaramente la regione non può che essere vicina a queste grandi manifestazioni sportive perché comunque promuovono in maniera più che degna il nostro territorio e mettono in prima fascia quella che è la cosa più bella della nostra città cioè il mare con tutti i suoi aspetti poi in un posto molto bello. Devo dire che noi abbiamo fatto un bando molto importante sui grandi eventi sportivi che immagino l'associazione che ha organizzato questo evento ne approfitterà perché insomma sono importi importanti così come abbiamo fatto per altri eventi sportivi su Taranto lo scorso anno. Candidatura che è stata proposta perché evidentemente la FITRE ha creduto in noi perché l'anno scorso si è fatto bene con l'impegno di poter fare ancora meglio quest'anno e si è fatto bene non soltanto perché la nostra società evidentemente è in grado di organizzare un evento così impegnativo ma anche perché lo scenario che noi offre agli atleti è veramente unico indimenticabile e ripetibile. Questo lo posso dire non da presidente e basta ma per il fatto che sono un'atleta da 35 anni ho girato l'Italia e non solo l'Italia evidentemente anche io non mi sono trovata mai in punta di piedi a poter gareggiare in uno scenario che ha un altissimo valore culturale. Grazie a tutti.